Intanto per esprimere un dispiacere personale come gruppo, in quanto la presidenza della Camera nella giornata odierna, 10 febbraio, non ha previsto un momento per la giornata del ricordo che ricorda le migliaia di vittime nelle foibe del confine orientale. La grave dimenticanza in occasione del giorno del ricordo della Presidente della Camera Boldrini non passa inosservata ai parlamentari nostrani. Dopo l'intervento del capogruppo della Lega, il triestino Massimiliano Fedriga, che mette in ambascia i vertici di Montecitorio, il vicepresidente Giacchetti si affretta a precisare, dopo aver sbiancato di fronte all'intervento del deputato, che la cerimonia ufficiale, organizzata però dal Quirinale, è in programma nella Sala della Regina. Immediata la replica di Sandra Savino, che sottolinea la gravità della situazione. Una cosa sono gli eventi a latere, spiega la parlamentare di Forza Italia. Un'altra è il riconoscimento storico e morale della Camera, che rappresenta tutti gli italiani, compresi Istriani, Fiumani e Dalmati. Una vicenda ricorda che anche quella dei tanti singoli, che con il loro sacrificio salvarono tante vite. È per me un onore ricordare in quest'aula oggi il nome del dottor Micheletti, che nonostante in quella tragica giornata, perse i figli Carlo e Renzo, di 9-6 anni, e per più di 24 ore consecutive non lasciò il suo posto di lavoro all'ospedale per curare i tanti feriti. Un eroe italiano che meriterebbe il più alto dei riconoscimenti da parte di uno Stato che invece, per troppi anni, ha saputo solo girarsi dall'altra parte e non guardare. Ed ecco che di fronte alla pressione dei parlamentari, non solo di centrodestra, ma tutti quelli che rappresentano Trieste, il Friuli, Venezia e Giulia, la Boldrini si accorge della GAF e rimedia con un intervento velina prontamente preparato dagli uffici. Questa mattina è stato chiesto alla Presidenza di avere anche in aula un momento di riflessione e conforto e questa richiesta ho inteso subito di accogliere. Quindi la scontata lettura del comunicato preparato ad hoc, poi gli interventi accorati di Aris Prodani di Alternativa Libera e Dettore Rosato del PD. Per chi abbia vissuto direttamente quella storia, per chi non abbia finto di ignorare, appaiono evidenti le violazioni dei fondamentali diritti umani che quelle popolazioni, in una generale indifferenza, subirono. Quelle foibe erano cavità carsiche, solo cavità carsiche, o gli esuli erano fascisti che scappavano dopo la guerra. Ecco, quelle pagine dure della nostra storia sono state cancellate. Oggi, per fortuna, abbiamo un modo diverso di ricordare quei momenti. abbiamo una sensibilità diversa, che quella sensibilità che con leggerezza e profondità vediamo anche nei nostri teatri, dove per esempio Simone Cristicchi porta al magazzino 18 uno spettacolo che insegna ai bambini delle scuole cosa è successo sul nostro confine e come è stata fatta la storia del nostro Paese. Grazie. Grazie. Deputato Rosato.